Gli stessi gruppi mi hanno manifestato e questo è un dato molto positivo non per il sindaco ma per la città, tutti coloro che hanno iniziato l'avventura amministrativa il 9 giugno 2014 hanno riconfermato piena fiducia al sindaco, pieno appoggio al sindaco e al programma. E' soddisfatto il sindaco di Giulia Nova Francesco Mastromauro delle consultazioni avviate dopo l'azzeramento dell'Aggiunta. I gruppi che ha incontrato hanno confermato la volontà ad andare avanti fino a fine mandato. Hanno dato i propri contributi di carattere programmatico che vanno nella direzione auspicata cioè completare i lavori che sono in corso in città e i cantieri come Via Leorsini, come l'inizio dei lavori della caserma della compagnia. Il completamento dell'opera di messa in sicurezza degli edifici pubblici sotto il punto di vista dell'aumento, dell'adeguamento del coefficiente di antisismicità, cosa che abbiamo iniziato nel 2009 a Giulia Nova come sapete con gli altri due edifici. L'inizio della riqualificazione della parte più sensibile del centro del Lido, Via Nazario Sauro, l'abbattimento delle barriere architettoniche in città, insomma tutti quei cimenti che sono in corso di realizzazione come Via Leorsini dove vedete il cantiere a breve verrà completato con la rimazione delle radici. Chi polemizza non fa il bene della città, chi lavora ponendo le questioni come fanno i miei consiglieri comunali e i gruppi insieme al sindaco e all'esecutivo fa un buon lavoro perché i cittadini vogliono quello, la signora Maria vuole che il sindaco e l'amministrazione risolva i problemi. E sulla composizione della futura giunta il sindaco Mastromauro ha chiesto ai gruppi di fare una riflessione e di portare lunedì sul suo tavolo una rosa di nomi dalla quale scegliere i futuri assessori. Io ho chiesto all'esito di questo passaggio oggi, era fondamentale, c'è stata la rinnovata stima, volontà, fiducia al sindaco e al programma. Oggi io ho posto un altro step ai gruppi, naturalmente a quelli che vogliono entrare nell'esecutivo, ho chiesto loro di fare una riflessione in questi giorni, riconvocandoci per lunedì prossimo, intorno alle 13 ci vedremo con i due gruppi di PD e del Partito Democratico di Articolo 1, affinché mi pongano una rosa di nomi, donne e uomini, all'interno dei quali io possa scegliere le migliori risorse in termini di qualità, di impegno, di dedizione per ricostituire l'esecutivo. Oggi ho bisogno di giocatori che facciano la Champions League e che la vincano, perché la città vuole che completiamo gli ultimi 18 mesi dell'amministrazione comunale e il programma alla grande, così come è stato in questi otto anni.